Il momento tanto atteso è arrivato, Jerome Powell, il presidente della Ferrer Reserve, la banca centrale americana, ha parlato durante il simposio in programma a Jackson Hole e è arrivato il momento tanto atteso del taglio dei tassi da parte della banca centrale americana. Su questo Jerome Powell è stato abbastanza preciso, ha detto di cambiare, di adattare la nostra politica monetaria, che detto in gergo vuol dire che nella prossima riunione del 18 settembre la Fed abbasserà finalmente i tassi, come ha fatto la BCE qualche mese fa. I riflessi sui mercati sono stati immediati, qui vediamo la borsa, Piazza Affari ha chiuso in rialzo di poco più dell'1%, proprio scattando alle parole di Jerome Powell che ha parlato attorno alle 16 ore italiane, quindi un'ora e mezzo prima della chiusura, quindi abbiamo fatto a tempo a guadagnare, guadagnare con tutto il resto delle borse europee e con Wall Street ovviamente, lei che comanda, che almeno nelle prime battute è salita fino all'1%, anzi più che nelle prime battute subito dopo le parole Powell. Parole Powell che ovviamente si sono fatte sentire anche sui mercati obbligazionari e con una generale discesa dei rendimenti, investitori sono corsi ad acquistare titoli di Stato e sono scesi i rendimenti in attesa appunto di un ribasso dei tassi di interesse. Qui vediamo il BTP che è quello che interessa a noi, che è sceso di quasi 5 punti base e qui notiamo anche l'andamento durante la giornata e quell'inavvissarsi è avvenuto proprio alle ore 16 quando Powell ha iniziato a parlare ed è avvenuto di seguito a quello che è successo per il decennale americano e anche per il decennale tedesco. Vale la pena infine di notare cosa è successo sul mercato dei cambi perché anche questo è assolutamente collegato e qui vedete invece con avvissarsi è un forte rialzo dell'euro, in realtà non è un forte rialzo dell'euro che peraltro sul dollaro è arrivato a sfiorare 1,12 forse l'ha anche raggiunto per qualche minuto, è un depreciamento del dollaro, un taglio di tassi da parte della Federal Reserve ha come reazione da parte degli investitori un movimento del genere. Il dollaro che è sui minimi su scala globale con tutte le altre valute più o meno da fine 2023 sull'euro un pochino prima perché l'euro è ai massimi da circa un anno e qui vedremo poi cosa succederà nelle prossime sedute perché la partita è totalmente aperta e sappiamo a questo punto quasi la certezza che ci sarà questo taglio di tassi della Federal Reserve il 18 settembre, non sappiamo però di quanto sarà di 25 punti base o di 50 punti base addirittura che alcuni sperano sul mercato e poi vedremo cosa seguirà dopo perché il mercato è molto aggressivo nell'aspettarsi metà di tassi da parte della Federal Reserve, ne aspetta almeno 4 da qui a fine anno che sono un bel ammontare, almeno 4 vuol dire un punto percentuale, è un bel ammontare e non è detto che poi questo si tradurrà nella realtà, quindi vedremo nelle prossime sedute ci sarà maniera per apprezzare, per valutare le parole di Powell e per vedere anche i dati macroeconomici soprattutto quelli degli Stati Uniti che verranno fuori e vedremo un pochino cosa succederà se continuerà questa spinta rialzista nei confronti di azioni e bond e questa penalizzazione nei confronti del dollaro. Grazie a tutti!